Violento nubifragio e tornado, persone travolte dalla forza dell'acqua, le immagini sconvolgenti. Nelle ultime ore, il nostro paese è stato colpito da una potente tromba d'aria e da un violento nubifragio. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. Vorremmo mostrarti alcune immagini incredibili di quanto è successo. In queste immagini viene mostrata una persona in difficoltà che cerca di combattere contro la corrente dell'acqua. Possiamo vedere la tromba d'aria filmata da un automobilista che si è trovato davanti questa scena spaventosa. Questa incredibile tromba d'aria è stata registrata nella zona del Ferrarese, nei pressi di Lago Santo e ha messo le persone del luogo nel panico. La seconda parte delle immagini sono davvero scioccanti e mostrano il nubifragio che si ha abbattuto nel pomeriggio su Matera, causando allagamenti nelle aree residenziali e urbane. Alcune strade sono chiuse a causa dei detriti e dei materiali presenti. L'acqua si è riversata soprattutto nei quartieri di case Intufo, che sono parte del patrimonio dell'UNESCO. Creando disagi per i numerosi turisti e per i locali pubblici. Tavolini, ombrelloni e sedie sono stati travolti o abbattuti. Si sta cercando di comprendere i danni e risolvere quanto prima il disastro creato dal temporale. Speriamo si risolva tutto al più presto.